Eccoci, finalmente montato il nostro espositore dei campioncini colore di Sickles. Vi racconto brevemente a che cos'è e a cosa serve. È un espositore che contiene tante bustine come questa, al cui interno c'è un po' di pittura, della tinta che vedete qui segnata fuori. Sono campioncini colore che potete venire a ritirare qui in negozio, potete provare sulle vostre pareti per cercare di avere un'idea in più, un suggerimento in più, se volete tinteggiare la vostra casa. Sono legate al colore dell'anno, che è questo Bright Skies, che è un azzurro, un azzurro etereo, leggero, che porta positività, che un pool di esperti ha selezionato come essere il colore che più ci rappresenta nell'anno in corso. Insieme a lui hanno abbinato delle tinte, quindi hanno creato delle palette colore, che possono essere appunto molto piacevoli da inserire nelle vostre abitazioni. Ci sono colori, ce ne sono tantissimi, dai colori pastello ai colori più neutri, quindi le tinte più soft, più chiare, ha i colori dedicati alla natura, tutta la gamma dei verdi, dei sabbia, e poi per finire appunto questi che sono i colori un pochino più briosi e più allegri. Ce ne sono tantissimi per tutti i gusti e noi vi aspettiamo qui in negozio per poterli scegliere insieme a voi.